Musica Bentrovati alla terza edizione del TG6 a Teramo. Il sindaco Maurizio Brucchi ha firmato l'ordinanza di sgombero per 29 famiglie residenti nelle nuovissime palazzine Ater di Collaterrato Alto. La decisione ha creato stupore e sgomento tra i 350 inquilini che presto resteranno senza casa. La decisione del sindaco arriva dopo il verbale dell'ultimo sopralluogo della protezione civile. I cittadini protestano e ricordano che i vigili del fuoco hanno confermato più volte invece la struttura e la sicurezza della struttura. Tania Bonici Castelli Sta per essere notificata a sorpresa a 29 famiglie teramane l'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco di Teramo Maurizio Brucchi riguardante 32 appartamenti a Collaterrato Alto di proprietà dell'Ater. La decisione è stata presa dopo l'ultimo sopralluogo effettuato dalla protezione civile che avrebbe rilevato danni post-sisma compatibili con l'inagibilità. Una storia surreale tutta italiana, questi 32 appartamenti di edilizia popolare oggi dichiarati inagibili hanno appena tre anni di vita. Costruiti nel 2013 con fondi pubblici e con sistemi antisismici sono stati affittati come immobili di categoria superiore doppia A. E invece, nonostante i doppi controlli strutturali effettuati subito dopo il terremoto di ottobre dai vigili del fuoco che avevano ritenuto sicura la struttura, arriva l'ammazzata della protezione civile che dice tutti fuori. Ma com'è possibile? 32 appartamenti tutti inagibili, tutte le famiglie fuori, ma che cosa è successo? Per i vigili del fuoco eravati in sicurezza e adesso non più? Beh, perlomeno, come hanno detto, la protezione civile dobbiamo scomperare. Stiamo aspettando l'istanza che ci fa il sindaco e poi, non so, perché per i vigili del fuoco sono venuti tre pattuglie. E cosa ha trovato la protezione civile che non va? Ma adesso, cioè io non posso pronunciarlo perché a distanza dal sindaco ancora ne è arrivata, appena arriverà il sindaco, però si vocifera che per semplici lesioni stiamo andando fuori. Semplici lesioni che vuol dire strutturali? No, 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 perché la struttura ha tenuto sia le travi che i pilastri, cioè il resto è solamente lesioni di tamponamento e qualche un po' di intoneco che è andato giù. Signora Vilma, com'è dentro casa sua? La mia non ha fatto niente, solo nella porta scorrevole, il vuoto, diciamo, un po' di cemento, la pittura, la cameretta di mio figlio. Quindi questa inagibilità le sembra esagerata? No, da me no, ai primi piani forse qualche cosa di più, ma da terzo e quarto piano non c'è danno. Lei adesso come si sente dover lasciare casa? È male, ci sentiamo male, anche perché io ho i miei problemi, diciamo, di ossa, di tutto. Ho un figlio che vive con me, ho i nipotini piccolini, mia nuora lavora e quindi mi devo pure occupare dei bambini. Quindi lasciare la casa stupidamente non è giusta. L'angoscia degli inquilini aterdi con l'atterrato è palpabile. Si chiedono se mai la protezione civile avesse esagerato, ma se non lo avesse fatto allora il problema sarebbe gravissimo. Vorrebbe dire che dentro quei pilastri c'è sabbia invece del ferro. E continua la discussione sul provvedimento di bilancio della regione Abruzzo. Intanto, ieri sera il Consiglio regionale ha ratificato il disavanzo dell'ente. I dettagli nel servizio di Filippo Tronca. Di certo per ora ci sono i debiti da pagare, 770 milioni che imporranno un piano di rientro da 51 milioni l'anno fino al 2025. L'entità del disavanzo è stata approvata ieri in Consiglio regionale in tarda serata. Atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione previsto per oggi. Molto probabilmente in tarda serata. Un'invellità ostruzionistica sarà però troncata dall'obbligo di arrivare al voto entro la mezzanotte. Una manovra da 6,2 miliardi di euro con capitoli ridotti all'osso e in molti casi in diminuzione rispetto all'anno precedente. Ma l'assessore al bilancio Silvio Polucci preferisce guardare al bicchiere mezzo pieno. E dunque abbiamo in realtà ragionato in un'ottica di spending review senza toccare i servizi e ovviamente andando ad accantonare quelle risorse che ci venivano liberate dalla conclusione dei piani di ammortamento dei mutui. Se nei banchi dell'opposizione il Movimento 5 Stelle promette battaglia ripresentando la proposta del rendito minimo di cittadinanza, il centrodestra si impegna a migliorare per quanto possibile la manovra. Più certi distanziamenti per alcune categorie. Allora vogliamo finanziare l'accesso al credito degli artigiani e piccoli e medi imprenditori, i commercianti che stanno soffrendo in maniera assolutamente insopportabile la morsa della crisi e l'impossibilità di accedere al credito. Vogliamo sostenere la famiglia e in particolare le donne lavoratrici dando contributi e sostegni a chi permette a una donna lavoratrice di conciliare tempo e lavoro e soprattutto di conciliare maternità e lavoro. Vogliamo garantire finanziamenti certi alle categorie più deboli, in particolar modo evitare il peso del ticket sociosanitario. In consiglio regionale la presenza tra i banchi dell'opposizione di Giorgio D'Ignazio nella seduta di ieri ha consentito il raggiungimento del numero legale e il voto sul bilancio delle partecipate. Per i colleghi di centrodestra questa sarebbe la prova di un avvicinamento di D'Ignazio alla maggioranza di centrosinistra. E lui, Giorgio D'Ignazio, consigliere del nuovo centrodestra, l'uomo su cui si concentrano gli sguardi torvi e sospetti, in particolare i da banchi dell'opposizione, dove qualcuno lo chiama già compagno di Giorgio D'Ignazio. Ieri con la sua presenza ha salvato la maggioranza garantendo il numero legale nel voto sui bilanci delle partecipate. La prova per Forza Italia è di un suo avvicinamento alla maggioranza ed è per questo che sarebbe già pronta una mozione di sfiducia, volta a rimuoverlo dal suo ruolo di consigliere segretario. Per me fare politica è un'altra cosa, non so se la mia visione politica è sbagliata o è giusta, ma continuare a fare un logorio all'interno dell'aula per poter portare uno sfinimento come è successo negli altri anni, facendo mancare il numero legale e riconvocarsi dopo mezz'ora, devo dire che il numero legale ieri non è mancato mai, alcuni organi di stampa hanno riportato che il numero legale era mancato tre volte, non è vero. Cosa ne pensa però di questa mozione di sfiducia nei suoi confronti, a questo punto l'opposizione non la vuole come a questo punto esponente di maggioranza nell'ufficio di presidenza? Non ne so niente, mi sorrido, sono esponente di minoranza, quando uno vota contrario non certo sta immaginando, ma poi voglio dire è la storia che ha giudicato le persone, quindi non sono arrivato ieri in politica, sono vent'anni ormai, sono più volte preso che il presidente Chiodi debba sa bene che ha avuto tutti i miei voti sempre, dal 1999 quando si è candidato sindaco sconfitto, nel 2004 quando si è candidato sindaco, nel 2008 quando si è candidato presidente regione, nel 2014 quando si è ricandidato presidente regione, quindi credo che il presidente Chiodi sappia benissimo che Giorgio Ignazzi... E la giunta regionale ha deliberato la nomina di Francesco Chiavaroli, 55 anni, a direttore dell'Agenzia regionale per l'ambiente, l'Arta, dopo la valutazione e una procedura comparativa fra i curricula dei candidati. Chiavaroli è architetto, dipendente del comune di Cepagatti, già membro esterno, esperto ambientale del comitato di coordinamento regionale, valutazione di impatto ambientale della regione Abruzzo, CCR via, con una ricca esperienza nel settore e un master di secondo livello in diritto e gestione dell'ambiente e del territorio. A Pescara ancora senza soluzione la realizzazione del filobus, che avrebbe dovuto collegare Montesilvano al centro città, nonostante i lavori già effettuati sulla strada parco, ad oggi il governo regionale non chiarisce il destino del progetto. A denunciare immobilismo è l'associazione Pescara Mi Piace, ai microfoni di Francesca Romana Testi. Filovì ancora senza destino a Pescara, dopo i lavori per l'inserimento dei pali e il manto stradale, resta tutto fermo e intanto si discute su come sostituire i mezzi, che sarebbero dovuti essere realizzati da un'azienda ormai fallita, unica a realizzare quel particolare tipo di ibrido. Nel frattempo scatta l'emergenza smog e le associazioni cittadine sottolineano l'importanza di poter vietare la viabilità su alcune arterie cittadine ormai giunte sopra i limiti massimi consentiti. Sull'atteggiamento della filovia il centro città non è mai stato chiaro. Da una parte andava a braccetto con gli oppositori della cosiddetta strada parco, dall'altra però firmava gli atti più importanti. Ricordiamo che proprio Renzetti, allora presidente del GTM, di nomina Chiara PD, fu quello che firmò gli appalti più importanti per il completamento della filovia che purtroppo non è mai stata completata. Dall'altra però Sorgentone si deve in consiglio comunale nei banchi del PD. Ecco, questo atteggiamento schizofrenico è il peggio che si possa avere. Noi crediamo una decisione chiara, una posizione chiara, che abbiamo sempre avuto e correntemente. Siamo sicuri che la filovia è l'unico strumento per alleviare le sofferenze di questa città che ormai è martoreata dallo smog, dall'inquinamento e dal traffico, ma porterebbe grossi benefici anche al commercio perché la viabilità in centro ormai è satura. Corso Vittorio, che doveva essere un'isola felice, è diventata un'altra isola di smog e quindi non c'è altra soluzione. Se poi ascolto che l'alternativa possibile è quella di utilizzare i mezzi vecchi dell'Atac, allora dico ecco la montagna a parte del topolino. E dico attenzione ai cosiddetti oppositori della strada parco perché chi gli sta dicendo che lì non passerà la filovia, li sta prendendo in giro perché il rischio è che ci passerà qualche mezzo e sarà di gran lunga peggiore di quello che potrebbe essere un mezzo ecologico, non inquinante, al dispetto alla fine di tutti quanti, anche del buonsenso. Il deputato pescarese di sinistra italiana Gianni Melilla interviene sul possibile aumento del pedaggio autostradale. Ho chiesto una moratoria nazionale al Ministero dei Trasporti e Infrastrutture per evitare nuovi aumenti dei pedaggi autostradali. Siamo a pochi giorni dal primo gennaio e va impedito un nuovo aumento dei pedaggi che colpisca pendolari, utenti, trasportatori in modo selvaggio, ingiustificato. L'anno scorso su 27 concessionari autostradali solo 7 hanno ottenuto aumenti e tra di esse la nostra autostrada dei parchi. Negli ultimi 13 anni l'autostrada dei parchi ha aumentato i pedaggi del 187%, dal 2009 al 2016 l'aumento è stato del 42,88% a fronte di un aumento dell'inflazione del 10%. L'anno scorso il rincaro fu del 3,45%, il secondo più caro d'Italia. Peraltro la nostra autostrada è vecchia e insicura, non ha operato investimenti innovativi a livello energetico installando impianti fotovoltaici come invece ha fatto l'autostrada del Brennero, anch'essa di montagna. Non ha nessuna stazione di servizio per il carburante, bar, ristorante e bagni per 100 km da Chieti a Magliano dei Marsi e viceversa, nonostante la ripetuta promessa di farne una nella Valle Peligna. E dunque muoviamoci e chiediamo, come ho fatto mesi fa al Ministro del Rio, di concedere nel 2017 nessun aumento dei pedaggi a tutte le concessionarie autostradali, compresa l'autostrada dei parchi. Chiedo a tutte le istituzioni e alle forze sociali, continua Melilla ed economiche, di far arrivare in queste ore al Ministro dei Trasporti e al Governo la voce dell'Abruzzo degli operatori economici e dei pendolari che utilizzano l'autostrada per motivi di lavoro o di studio e non possono sopportare altri aumenti di pedaggi autostradali. Anche Roseto si mette in lista per prendere i 10 milioni di euro destinati nel masterplan al progetto della funivia di Teramo, pronta a una mozione che impegna Sindaco e Consiglio Comunale ad attivarsi presso la Regione per presentare la propria candidatura che segue quella di Silvi. Alfredo Primante. Il no del Consiglio Comunale di Teramo al progetto per la funivia per collegare il campus universitario di Coste Sant'Agostino al centro città ha scatenato gli appetiti di diversi amministratori del Teramano, pronti a chiedere alla Regione Abruzzo di stornare i 10 milioni di euro destinati al capoluogo nel masterplan per il sud a loro favore. Il primo in ordine temporale a manifestare l'interesse per il progetto è stato il sindaco di Silvi, Francesco Comignani, che ha lanciato l'idea di una funivia che colleghi il borgo di Silvi Paese alla Marina. Sarebbe un volano eccezionale per il turismo silvarolo, secondo l'amministrazione riverasca, a cui adesso si accoda anche Roseto degli Abruzzi. Collegare il borgo di Montepagano alla città di Roseto è questa la proposta avanzata dai consiglieri Angelo Marcone e Mario Nunes di Casa Civica, che è stata anticipata ieri sera in Consiglio Comunale, proposta formalmente all'Assise attraverso una mozione che verrà depositata nei prossimi giorni. L'intento dei due consiglieri è offrire ai turisti la possibilità di arrivare dal centro di Roseto al borgo di Montepagano, conoscerlo e apprezzarne le bellezze e il panorama per farlo rivivere sia a livello commerciale che immobiliare. Ovviamente si tratta di un progetto che andrà discusso ed arricchito e per il quale dovrà essere costruito un piano specifico perché il comune con i fondi propri non potrebbe mai realizzarlo. Ed è da questa considerazione che parte la mozione che vuole sfruttare il varco creato dalla decisione della maggioranza di centrodestra e del Consiglio Comunale, che invece vorrebbe quei 10 milioni di euro per altre opere, anche se i fondi a disposizione della regione attualmente sono vincolati alla realizzazione della funivia. I lavoratori della Sevel di Atessa si sono fatti promotori di un'iniziativa destinata ai piccoli pazienti di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Pescara hanno portato doni e bambini ricoverati in reparto indossando le tute da lavoro e i cappellini da babbo Natale. Vediamo. È Natale anche in ospedale a portarlo una delegazione di lavoratori della Sevel di Atessa che con tute da lavoro e cappellini rossi sono entrati in punta di piedi nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Pescara per portare doni e distrazione ai bimbi ricoverati. Questo penso che sia un valore importante soprattutto per fare in modo che bimbi non interrompano la loro quotidianità e quindi possano continuare a vivere il Natale come lo vivono a casa, cioè ricevendo dei regali e incontrando anche persone che vengono da fuori. L'augurio che noi diciamo sempre è quello che fino ad adesso guariscono indicativamente l'80-85% dei bambini. Io penso che l'augurio che a volte sembra un'utopia ma invece quello che vogliamo raggiungere è raggiungere la cifra a tre zeri, cioè che tutti si possano curare. Un gesto che si ripete da tempo spiega il presidente dell'AIL di Pescara un pensiero costante a chi non può vivere le feste nelle proprie case e in famiglia. Una famiglia allargata che cerca di far sentire il suo affetto anche in corsia. La Sevel ha con noi un rapporto molto particolare, ha fatto anche tanto nel passato per cui ogni anno si ricorda che esistono anche i malati di ematologia. È stata una cosa spontanea, noi non abbiamo sollecitato nessuno, sono loro che di loro iniziativa mi hanno contattato, noi vorremmo venire in ospedale e portare i giocati. Benvenuti. Una delegazione di lavoratori? Sì, c'è la responsabile delle relazioni esterne e poi un gruppo di lavoratori, credo che sia un coro, adesso non lo so in particolare. A Pescara nasce la figura dei garanti dei diritti dell'anziano. La nomina è arrivata lo scorso 22 dicembre. Il suo ruolo sarà quello di fare da ponte di collegamento tra istituzioni e cittadini anziani per cercare di rispondere al meglio alle esigenze di una popolazione spesso poco ascoltata. Promotrice dei diritti del cittadino anziano, ma in realtà è un garante a tutti gli effetti di questa fascia della nostra popolazione della città di Pescara. Viene scelta, è stata scelta dal Consiglio Comunale del 22 dicembre nella dottoressa Loretta Tobia, che è un ex dirigente della regione Abruzzo e che si occuperà appunto di facilitare il collegamento tra i cittadini anziani che ritengono che siano stati lesi dei loro diritti e l'amministrazione comunale. Ci tengo a dire che è un organismo autonomo e indipendente, tanto è vero che è stato incardinato presso la presidenza del Consiglio Comunale. È stato scelto appunto dal Consiglio Comunale di Pescara e soprattutto nasce da una grande partecipazione che è rintracciabile un Consiglio Comunale straordinario che si è tenuto nel 2015, che è un Consiglio Comunale straordinario che ci veniva richiesta da un'associazione, si chiama Nastro d'Argento, a proposito dei problemi di geriatria dell'asile di Pescara, dove molti anziani venivano curati appunto lungo i corridoi. Lì tra le proposte appunto per avvicinare di più gli anziani all'amministrazione comunale, ma anche a quella sanitaria, c'era appunto l'istituzione di questa figura. Oggi l'abbiamo fatta a dicembre 2015, poi c'è stato un avviso pubblico e il Consiglio Comunale l'ha scelto appunto a dicembre del 2016. La conferenza stampa è presente dall'assessore sociale con cui sicuramente avrà una collaborazione duratura, ma soprattutto sarà la persona che faciliterà l'avvicinamento dei cittadini. Che cosa significa? Che ciascun cittadino anziano della nostra città che ritenga di avere un problema si potrà rivolgere direttamente a questo promotore, a questa figura, lo potrà fare gratuitamente senza spese, senza bolli, senza nulla e avrà la possibilità di diciamo vedere approfondita la sua pratica. E resterà aperto fino alla Befana la mostra dei presepi di Montesilvano, visibile in maniera gratuita. Andiamo a conoscere da vicino nel servizio. Sono esposti nel centro di intrattenimento Porta Allegro di Montesilvano i presepi artistici realizzati da maesi artigiani non solo dell'Abruzzo ma di tutto il centro-sud Italia nell'ambito della decima mossa dei presepi artistici organizzata dal presepista Michele Entranuovo in collaborazione con il Comune. Oltre 60 gli artisti che hanno realizzato 200 presepi rappresentando la natività a seconda delle proprie tradizioni e dando libero sfogo alla fantasia. L'assessore al turismo Ernesto De Vincentis. Quest'anno diciamo che veramente abbiamo raggiunto livelli eccezionali. È il decimo anno consecutivo che organizziamo insieme all'amico Michele Entranuovo questa mostra dei presepi che ripeto quest'anno ha veramente qualcosa di straordinario perché sono circa 200 presepi fatti da bambini che vanno dai 10-12 anni a persone che hanno raggiunto quasi 80 anni. Insomma è una mostra che racchiude la passione, la religione e siamo noi orgogliosi. Io in prima persona che mi sono adoperato sempre, ho sostenuto sempre questa mostra che riusciamo con tante difficoltà ma sempre con risultati straordinari consecutivamente ripeto a ripetersi di una mostra che ormai è entrata nella mente e nel cuore dei Montesilvanese. La mostra è stata inaugurata il 3 di dicembre e resta aperta fino a 6 gennaio e quindi insomma più di un mese a disposizione di tutti coloro che vogliono entrare gratuitamente senza vincoli e senza problemi a visitare la mostra. In alcuni giorni c'è anche la rappresentazione del presepie vivente sia di mattino che di pomeriggio, sia nei giorni festivi, sia Natale, Santo Stefano, Capodanno, insomma disposizione di tutti e ripeto soprattutto ingresso gratuito. Lo dico perché ripeto ci sono persone che stanno qui per due mesi, tre mesi a partire dall'installazione di questi presepi fino poi alla loro rimozione e quindi va dato a loro tutto il merito per aver realizzato una cosa e stando qui dalla mattina alla sera ripeto a disposizione di cui vuol venirci a trovare. Ed ora passiamo alla pagina sportiva dopo l'arrivo di Stendardo che già venerdì dovrebbe aggregarsi al gruppo Biancazzurro. Il Pescara continua a sondare il mercato nelle altre zone del campo sia in mediana che in attacco. I nomi sono tanti per l'attacco. Dennis e Budimir sono in vantaggio sulla folta concorrenza. Il servizio. Dopo Guglielmo Stendardo che già venerdì dovrebbe iniziare ad allenarsi a Pescara con il Placid dell'Atalanta, per il Delfino continuano le grandi manovre di mercato per rafforzare la squadra in vista dell'inizio del campionato e il prossimo 8 gennaio contro la Fiorentina. Servirebbe anche un altro tassello dietro, anche se su Cesare Bovo nelle ultime ore è spuntata forte la concorrenza del Palermo, alle prese anche con una fragilità difensiva che ha in comune con i Biancazzurri. Sul Torinista in uscita dunque il Pescara probabilmente dovrà battagliare per spuntarla. Sempre dietro Coda e Zupari ci sono sul piede di partenza, mentre Zampano è richiesto sia in Italia, Fiorentina appunto e Sampdoria, che all'estero. Passando alla mediana il Delfino sogna il ritorno di Rolando Mandragora. Il ragazzo, reduce da un infortunio subito proprio nella parte finale dello scorso campionato è tornato la Juventus e i bianconeri vorrebbero farlo recuperare al 100%, mandandolo sei mesi in una piazza dove potrebbe trovare lo spazio giusto. Pescara, vuoi per i trascorsi recenti del ragazzo, vuoi per la stima di Massimo Oddo, sarebbe una piazza graditissima, ma in questo caso è l'Atalanta la rivale dei Biancazzurri, potendo contare sulla carta Giampiero Gasperini, che lo fece esordire in Serie A nella primavera 2015 contro la Juventus con il Genoa. Per questo saranno importanti le diplomazie su entrambi i fronti, col Pescara che non molla lui, così come Marcel Buchel, che il DS Leone conosce bene per averlo avuto nella Virtus Lanciano nella stagione 2013-2014, quando i frentani toccarono anche la vetta della classifica di Serie B con Marco Baroni. La pista è di quelle calde, così come quella che porta l'argentino ex Lazio Christian Ledesma, attualmente in forza i greci del Panathinaikos. In Grecia a sponda Paok Salonicco, corteggiato anche Mame Babatiam, anche lui ex Virtus Lanciano. Altro esubero in casa Bergamasca è il Cileno, con doppio passaporto Carlos Carmona, esperto, ma solo due presenze in questo campionato in maglia nera-azzurra. Sarebbe un rinforzo utile per la zona nevralgica del campo. Infine l'attacco, dove un altro ex-atalantino Germán Denis continua ad essere in pole position, insieme al croato della Sampdoria Ante Budimir, che in blu cerchiato è chiuso dalla coppia Murriel Quagliarella, con quest'ultimo che dovrebbe presto rinnovare il contratto scadenza 2017. In posizione più defilata ci sono Goran Pandev e Alberto Gerardino, con l'Empoli che non vorrebbe rinforzare però una diretta concorrente. Nella gestione degli incastri però, se Tiam via Juve dovesse raggiungere Martuscello in Toscana invece di approdare in Abruzzo, potrebbe chiudere ancora di più lo spazio all'ex attaccante della Nazionale, che a quel punto potrebbe decidere di essere ceduto proprio al Delfino. Intervenuto nei nostri studi nella trasmissione Proteramo, il presidente bianco-rosso Luciano Campitelli ha tracciato il bilancio dell'anno che si sta per chiudere. Il patron dà l'addio all'attaccante Jefferson e parla della collaborazione con il San Nicolò e per il momento ha deciso di non chiedere la grazia dal punto di vista della giustizia sportiva. Ascoltiamolo. Visti i risultati credo che sia il peggior anno della mia gestione, quindi un anno molto negativo da tutti i punti di vista. Per poterci salvare dobbiamo lottare tanto. Ci si è partiti un attimino già col piede sbagliato senza dare colpe a Tizio e Caio perché qualsiasi cosa poi succede in una società, le colpe si riassume sempre colui che gestisce la società, in questo caso io e quindi Zauri sicuramente qualche colpa ce l'ha, tante ce le ha Lupo e sicuramente io ce li ho più di tutti perché forse dovevo intervenire, come si usa dire, in un modo molto drastico molto tempo prima. Jefferson purtroppo è questo, mi dispiace perché oltretutto è un bravo ragazzo, è un ragazzo che mi è molto simpatico ma a me mi servono i giocatori, i giocatori veri, quelli che non stanno lì, un giorno stanno bene, l'altro giorno discreto e poi non bene, quindi è un giocatore con cui non ci possiamo contare, quindi è un giocatore sicuramente che andrà via perché noi questi tipi di giocatori non li possiamo né tenere e né pagare, stiamo facendo delle belle chiacchierate per poter far sì che si crea una bellissima collaborazione tra le due società per poter ottenere il massimo da questo tipo di accordo e quindi sicuramente a gennaio cominceremo a tirare le somme in un modo proprio nella concretezza credo che sarà una cosa che tante altre società ci verranno dietro. A metà della sanzione si può chiedere la grazia, ci sta pensando? Ma ci sto pensando, diciamo che qualcuno me l'ha ricordato e adesso vedremo se chiedere la grazia oppure no, siccome in questo momento ci sono le votazioni e tutti ti vogliono fare la grazia, quindi non la chiedo, preferisco rimanere in questo modo, poi quando si chiederà vuol dire che le acque sono aperte perché in questo momento la grazia c'è da parte di tutti, ma io la voglio e la voglio quella vera, capito, non quella poco corretta. È il peggior anno da quando sono qui il capitano del Teramo, Ivan Speranza, non ha dubbi nel definire questa la peggiore stagione da quando veste la maglia bianco-rossa, andiamola ad ascoltare. Quando succede così mi ha sbagliato proprio la disposizione della linea, purtroppo abbiamo lasciato un po' liberi lì davanti, abbiamo sbagliato dal primo all'ultimo, sì, perché eravamo molto larghi proprio come linea, siamo usciti fuori dalla porta, dallo specchio della porta, è un peccato perché comunque abbiamo fatto una buona partita loro tranne un'altra punizione prima, a livello di tiri abbiamo subito forse 3-4 tiri da 25-30 metri, ma nulla di che, quindi rovinare una prestazione del genere con disattenzione così è da poglie. È stato un 2016 facilissimo, soprattutto questa parte qua ovviamente è molto sofferta, soprattutto questa stagione qua è stata molto sofferta perché mi è iniziato un pochino male e ce la stiamo portando così, però magari la parte finale del campionato scorso ci è andato un po' meglio perché anche lì l'andata noi che abbiamo fatto benissimo per il ritorno l'abbiamo fatto un po' meglio, è finita leggermente un po' meglio, però non è stato sicuramente un 2016 fantastico, sì, da quando sto qui a terra, ma anzi sarà l'uno degli anni peggiori, sicuramente da quando sto io qua, quindi speriamo che lo lasciamo alle spalle. Il 2017 sarà molto meglio. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.